Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi vi svelo un piccolo segreto, come riuscire a pelare un pomodoro in maniera facile e veloce, soprattutto mantenendo il pomodoro integro. Si prende un pomodoro, si crea un'incisione nella parte inferiore del pomodoro, poi successivamente si mette una pentola nel fuoco, nell'acqua, si fa bollire l'acqua. Quando l'acqua arriva a bollore si inserisce il pomodoro all'interno e si ci lascia per una ventina, massimo 30 secondi, dove poi successivamente leviamo il pomodoro dall'acqua e lo passiamo in una bulla con dell'acqua e ghiaccio. Quindi che cosa andiamo a creare? Si crea uno shock termico da caldo a freddo. Questo shock termico fa sì che il pomodoro si pelli in maniera veloce. Col pomodoro potrete realizzare delle misalate, un pomodoro semi idratico o quello che vi piace. Alla prossima, buona serata. Ciao! 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 Ciao!